gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia roberto saviano diciamo anche lui perché hanno parlato in tanti di quello che è successo nel senso che hanno sospeso tutti i social di donald trump lui si è rifugiato in un social che non avrebbe fino a questo momento nessun tipo di censura chiuso definitivamente l'account di twitter chiuso definitivamente l'account di instagram e facebook vedete il presidente degli stati uniti in carica è tagliato fuori da tutti i social quindi non può più comunicare per mezzo di quei social i suoi sostenitori lo può fare con radio televisioni ma non è la stessa cosa il social ha una forza differente lui aveva addirittura pensate 88 milioni di seguitori solo solo su twitter immaginate poi su facebook e instagram quante centinaia di milioni di sostenitori lo seguivano e diciamo che anche saviano parla di questo dice la sospensione di twitter solleva degli interrogativi giusto sospendere l'account di trump e lui dice verrebbe da dire di sì incondizionatamente eppure che a decidere per questioni così vitali per la democrazia siano i colossi dei social media solleva più di un interrogativo e beh scrive roberto saviano proprio su twitter che ha che ha chiuso il profilo di del presidente degli stati uniti bene e sì quello che dice saviano è giusto nel senso che solleva molto più di qualche interrogativo aziende private che decidono quello che è giusto sbagliato chi deve dire o no alcune cose se un'opinione giusta o sbagliata l'ultimo tweet tweet di donald trump diceva a se mi rivolgo a 75 milioni di patrioti ricordatevi che non sarete lasciati soli da me chiuso l'account perché questa è un'incitazione ma a me non è sembrato un'incitazione insomma si vede che negli stati uniti hanno un una sensibilità diversa dalla mia loro ci vedono in quella frase che vi ho appena detto un incitamento all'odio insomma diciamo che se voi ci volete trovare l'incitamento all'odio trovateglielo nel senso bisogna anche raccontarci le cose così come sono senza raccontarci la storia di babbo natale bene io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti